Sei tifoso del Napoli, a questo punto facciamo partire la rubrica Colciucciariello Forza Napoli, tanto da tifosi insomma, questo Napoli di Ancelotti ti piace? Quello di Sarri di più? Quello di Sarri è chiaramente di più, è questo debole per Sarri che devo fare Quello era più operaio, questo lo vedi un poco più semplice Ma hai sentito che Mertens va via, Corbali va via? Sì, ho sentito Andiamo a giocare noi? Io mi propongo Ecco, il ruolo che Erasmo vorrebbe Giocatore del Napoli Magari, guarda, finirei la mia carriera No, possiamo parlare insomma, no? Magari Non di Maradona magari di quando Cavani era a Napoli, no? Di qualcosa, dai ci inventiamo Sì, 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 ma sarebbe una cosa assurda, stupendo Senti, il cacciatore del Napoli che ora ti piace insomma, il suo gioco, il modo di essere Ma guarda, mi piace un sacco Coulibaly Il miglior attore del Napoli secondo te? Coulibaly, è il miglior attore del Napoli? Sì, per me sì, è un calciatore assurdo, fantastico Poi ho letto della nomination al pallone d'oro Sarebbe bello perché comunque è finalmente un calciatore del Napoli Ma sì, vabbè, dai, è veramente un ottimo calciatore Cioè guardandolo veramente da tutte le sfaccettature Poi la cosa bella è che questi calciatori quando arrivano a Napoli diventano proprio napoletani Infatti non voglio immaginare Mertens che andrà via, cioè sarà davvero difficile Morirà dentro In effetti il presidente non ha detto una cosa sbagliata, ha detto se si vuole andare a intestire in Cina vada pure Cioè sarà davvero difficile Però purtroppo per i soldi Da Napoli a Napoli E vabbè, purtroppo i soldi Eh, però spostano Chi li ha inventati i soldi? Non lo sappiamo ma per chi fa il lavoro come il nostro insomma i soldi è l'ultimo pensiero C'è l'arte, la passione, dai Magari esistesse solo quella Senti Erasmo, quindi questo Napoli insomma ti piace Secondo te può arrivare a qualcosa di più? Finalmente insomma uno si può aspettare secondo te qualcosa? Perché ogni anno diciamo sempre che l'hanno giusto Che l'hanno giusto Non lo so, io chiaramente lo spero però Perché i tifosi del Napoli hanno bisogno di festeggiare anche qualcosa Sì, da un po' di tempo ne hanno bisogno i tifosi del Napoli Di festeggiare almeno qualcosa Però non lo so, io sono speranzoso e fiducioso Perché credo che possa Lo merita sicuramente Sì, perché il gioco c'è L'affreddamento c'è Il mister c'è I giocatori ci sono Sì, sembrano anche che hanno Ti ricordi che quella volta dicevamo Alle partite importanti non si fanno trovare pronti Invece sembra adesso che hanno ribaltato La musica un po' è cambiata La musica un po' è cambiata e quest'anno vincevano lo scudetto App Grazie a tutti